Incredibile ma vero questo tatuaggio, è stupendo, con il logo del Napoli e col tricolore è di Luciano Spalletti. Il mister dei partenopei, di cui ancora non si conosce ufficialmente il futuro, ha voluto tatuarsi sulla pelle e per sempre il terzo scudetto vinto a Napoli. Come Politano e Di Lorenzo, anche Luciano Spalletti ha scelto Valentino Russo Tatu e ha scelto l'avambraccio sinistro per avere per sempre sulla pelle lo scudetto del Napoli, il terzo tricolore azzurro. Chi l'avrebbe mai detto? Immaginato ben nessuno, neanche Valentino Russo, che ha lasciato un messaggio sui social davvero emozionato. Ho conosciuto veramente una persona unica, scrive, ha un'umiltà incredibile e la sua ironia è inconfondibile. Voglio veramente ringraziarti per come mi hai trattato e per avermi fatto sentire come a casa mia. Ci vedremo sicuramente presto, orgoglioso e onorato di averti conosciuto con una foto, col tre, con Luciano Spalletti, e, beh, alle spalle Castelvolturno, con la speranza di tutti i tifosi che possa restare ancora la casa di Luciano Spalletti.